Grazie a tutti. Maria Lucia Esposto, Suora Apostola del Sacro Cuore di Gesù, che è con noi proprio per raccontarci un po' queste due esperienze. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato e buongiorno. Saluto tutti gli spettatori e i devoti di TV Padre Pio e di Padre Pio. Grazie, grazie Suora Maria Lucia. Allora, partiamo da questa missione. Come abbiamo detto, Padre Pio ha definito casa sollievo della sofferenza, tempio di preghiera e di scienza. È una missione quella dell'ospedale di Padre Pio. Stiamo vedendo nel nostro monitor le immagini relative a quella giornata. In questa missione l'ospedale si avvale anche dell'opera, della missione di voi apostole del Sacro Cuore di Gesù. Vorrei partire chiedendoti perché Padre Pio ha scelto proprio voi per questa delicata opera di vicinanza all'ammalato? E anche come continua oggi la vostra missione? È una domanda che ci facciamo anche noi, da sempre, da quando abbiamo avuto questa richiesta. A volte volersi dare delle risposte a delle intuizioni dei Santi diventa un po' un'ambizione, se non una pretesa. E quindi le intuizioni vanno accolte. Padre Pio sicuramente sapeva e capiva. E aveva anche visto nel futuro la sua opera. E quindi ha scelto le apostole del Sacro Cuore di Gesù. Però, diciamo, qualcosa che ha accolto Padre Pio in noi, c'è stato, l'ha visto. Intanto, apostole del Sacro Cuore di Gesù. Dico subito che Padre Pio era molto devuto del Sacro Cuore. Noi dovremmo avere anche delle immagini, perdonami se ti interrompo, relative proprio ai primi periodi in cui voi apostole siete state chiamate a servire questo servizio nell'ospedale. Prego, continui. Prima ancora che le apostole venissero in casa a Solglievo, erano già state in paese, giù al piccolo ospedale comunale del paese, dove facevano assistenza dagli anziani, piccolo. Davano anche lezioni di taglio, cucito e ricamo a delle ragazze. Poi, per le vicissitudini della guerra, per motivi economici, non potevano più sostenersi economicamente, le suore hanno dovuto andare via. Ma le suore, già le prime, le precedenti a quelle di Casa Solglievo, andavano da Padre Pio. Facevano tutto il percorso a piedi, con la neve, col freddo, affrontavano tutte le intemperie. Pur di andare, avevano intuito che era un uomo di Dio. E quando hanno dovuto andare via, Padre Pio ebbe a dire alle suore, non piangete perché ritornerete in un grande ospedale. E quindi questa profezia... Un profetico. Diciamo che come istituto, non so se qualcuno aveva più pensato a questa profezia di Padre Pio, ma nel tempo è tornata la carica Padre Pio. E quando ha pensato di creare l'ospedale, alcuni istituti si erano proposti, ma Padre Pio rispondeva che le suore le aveva già scelte. In realtà le aveva scelte nel suo cuore, ma ancora non c'era una richiesta ufficiale. Intanto fece la sua richiesta alla madre generale di allora, Madre Marcellina Viganò, che voleva delle suore perché collaborassero con la sua opera. E la madre, pur trovandosi un po' in difficoltà, ma interpellando le superiori delle case, le quali hanno risposto che a Padre Pio non si poteva dire di no. E allora si è creato il primo gruppo di suore che sono venute qui a collaborare con Padre Pio. Stiamo vedendo in queste immagini davvero molto molto belle. Ecco, il primo gruppo di suore. Una per la scuola, perché Padre Pio ha pensato subito di formare il personale, la casa sollievo. Il personale che voleva fosse formato professionalmente, ma anche spiritualmente e cristianamente. Quindi ha pensato a una suora che seguisse l'istruzione delle infermiere, la formazione delle infermiere. E delle suore che hanno preparato l'apertura, l'inaugurazione della casa. Perché Padre Pio ha pensato a noi? Appunto, io penso che l'induizione è partita dal cuore. Nel cuore sappiamo che è la sede di tutti i sentimenti. E allora se c'è un cuore pieno di amore, di carità, il nostro motto è Caritas Christi Urget Nos. Allora, un amore è una carità che non può non spingersi verso i malati, verso chi è bisognoso, verso gli anziani, verso gli orfani che Madre Clelia aveva nel suo cuore. E quindi penso che anche i superiori del tempo si sentivano quasi in continuità con quello che era anche il pensiero della fondatrice, le sue suore a servizio della carità. Dalle tue parole, suor Maria Lucia, traspare la straordinarietà, passami questo aggettivo, del miracolo di Padre Pio, che è la casa sollievo della sofferenza. L'accogliamo di riflesso, ma è importante capire ciò che Padre Pio ha pensato e ciò che Padre Pio ha voluto. Tu hai citato la vostra fondatrice, Madre Clelia Merloni, che è beata. È stata proclamata beata proprio cinque anni fa, nel 3 novembre 2018. Ricordo perché ero io a San Giovanni il Laterano a fare la diretta. Forse Padre Pio ha pensato proprio a voi a partire dal carisma della madre. Certamente, certamente. Aveva un cuore sconfinato per i sofferenti. Allora, il carisma è un dono dello spirito e i doni dello spirito non vengono meno. Possono cambiare la modalità di vivere, di essere portati avanti, di essere mantenuti vivi, ma non verranno meno. Per cui, affidando a un carisma, un'opera, ci dà la garanzia della sopravvivenza. È il timbro di qualità, diciamo così. Perché Padre Pio abbia pensato, ancora una volta lo dico, alle suore apostole del Sacro Cuore? Io dico che a volte i santi hanno delle intuizioni che o sono folli di amore e di fede o sono matti. Ma siccome non possono essere matti, sono santi. Perché anche lui ha dovuto sfidare, ha sfidato tante contraddizioni, difficoltà di tutti i generi per mettere su questa sua opera. Madre Credi ha fatto lo stesso percorso, in altro ambito, ma più o meno. Quindi le due anime si assomigliavano e si erano anche non incontrati, ma sentiti per via pistolare. Madre Credi ha chiesto dei consigli in momenti molto difficili della sua vita a Padre Pio. E gli ha messi in pratica i consigli che Padre Pio gli ha dato. Quindi ha visto forse anche nella fondatrice una donna obbediente a lui. E le suore hanno sempre visto poi, in Padre Pio, il padre che le ha seguite, le ha sostenute. Le suore si confessavano da Padre Pio, le prime suore. Andavano a chiedere consiglio, andavano ad attingere per poter dare. Diciamo che tra Padre Pio e i suoi malati, le suore erano il ponte, erano il canale attraverso cui passava il suo spirito e il suo carisma. Maria Lucia, io vorrei prendere in prestito una definizione che Padre Franco Moscone, l'arcivescovo e presidente dell'opera di Padre Pio, ha coniato, parlando di Casa Sollievo. La definita cattedrale di preghiera e di scienza per il mondo d'oggi, dove si svolge quotidianamente una liturgia perpetua. La liturgia del servizio alla carne fragile, ferita, ammalata, abbandonata dell'umanità, espressa nei sofferenti e negli ammalati. Da queste parole di Padre Franco, su Maria Lucia, noi capiamo che Casa Sollievo ha un di più, diciamocelo così, francamente. Secondo te dove sta questo di più? Questo di più è proprio in questo che abbiamo detto, sembra strano ma è intrinseco in questo che si dice, proprio perché Casa Sollievo è un tempio di preghiera, non solo di scienza, perché la scienza la fanno tutti, dappertutto c'è ricerca, c'è scienza, ci sono scoperte, ma Casa Sollievo ha questo di più nell'essere tempio di preghiera, così lui l'ha voluto e Padre Franco dice una cattedrale, una cattedrale. Quindi gli ha dato quasi, la quasi, Padre Pio la definisce così nel momento in cui la inaugura, opera della provvidenza e ancora una volta è dargli una garanzia di vita per sempre. Io non vedo mai Casa Sollievo fine. Oggi per scherzo, dicendo la preghiera, questa mattina ho detto oggi Casa Sollievo compie 67 anni, potrebbe andare in pensione, ma non lo fa, non lo farà mai perché Casa Sollievo è qualcosa che va al di là delle categorie umane, delle intemperie, degli attentati che si prende ogni giorno, politici, economici, di tutti i generi. Ma quello che appartiene a Dio, che è di Dio, nulla potrà distruggerlo. C'è anche quello che dice Gesù per la sua chiesa, le porte degli inferi non prevarranno. Quindi anche Padre Franco è stato uno intuitivo, uno che ha intuito fino in fondo, pur percorrendo tutte le strade, tutte le difficoltà, sostenendo anche lui a pagare il suo prezzo per questo suo servizio, per l'opera di Padre Pio. Però, ecco c'è, chiunque si mette a servizio di Casa Sollievo può stare tranquillo che c'è la provvidenza che sostiene, c'è la preghiera che sostiene, ma anche gli stessi ammalati, tanti ammalati scelgono Casa Sollievo ancora perché vedono in Casa Sollievo questo di più. Questa cura di corpo e anima. Signor Maria Lucia, sono tanti anni che tu sei in Casa Sollievo, ti chiederei brevemente di raccontarci qualche tua esperienza significativa. Allora, io, sì, sono tanti anni, però sono stati interrotti da alcune esperienze anche fuori. E di questo ringrazio anche la provvidenza, perché è anche carino vedere, è bello vedere, poter fare dei confronti. Perché a volte, quando si sta sempre nello stesso ambiente, sembra che poi l'orto dei vicini sia più bello. Invece non è così. Il bello e il brutto, diciamo, c'è dappertutto. La mia esperienza, la più forte, io sono stata studente, sono cresciuta professionalmente in Casa Sollievo dall'83 che conosco quest'opera. L'ho vista in tutte le sue fasi, nelle fasi auree e nelle fasi di crisi e tante volte dico, no, non vi preoccupate, che non morirà, non finirà, continuerà più forte. Perché ogni crisi è un'opportunità per chi la sa vivere. Non è una perdita, è una sconvitta. Io ho vissuto un'esperienza di una malattia molto forte. Io sono stata una paziente oncologica e quindi diciamo che nessuno ci scommetteva qualche centesimo sulla mia vita che avessi potuto superare. E invece, oltre che alla mia fondatrice, mio padre Pio non me ne voglia, però ecco ho detto collaborate insieme come sempre avete fatto. Io ce la metterò tutta e dico sempre che in Casa Sollievo l'uomo fa scienza e il Dio fa un'ipotenza. Per cui dove i medici, la scienza, la medicina deve fermarsi, padre Pio con la sua intercessione continua e quindi chiede a Dio padre di non abbandonare. E io in questo ho trovato la mia forza, forse in altri ospedali non so se ce l'avrei fatta superare. Sono qui e lo dico ancora grazie anche sia a tutti i medici, per carità, a tutto il personale, però soprattutto alla forza che mi è venuto sapendo sono in Casa Sollievo, sono al sicuro. E questo lo dico sempre tutti i giorni ai malati. Siete in buone mani, non vedete se qualcosa non va, qualcosa non deve andare perché se no se va tutto bene sembra che siamo una favola. Invece siamo realtà e la realtà è fatta anche di fragilità, quindi che tutti dobbiamo accettare e saper superare. Allora, Sor Maria Lucia, noi stiamo vedendo le immagini che giungono in diretta proprio nei pressi di Casa Sollievo con la facciata monumentale vestita a festa come nelle grandi occasioni. E noi vogliamo concludere questo nostro incontro con la preghiera che Padre Franco ha composto per Casa Sollievo e ci sembra giusto chiuderla. Sì, ho voluto farlo questo gesto perché le preghiere non devono essere fatte per mettere nel cassetto. È una preghiera che mi ispira tanto al futuro, alla speranza che deve continuare e alla speranza che deve illuminare anche le ombre più scure. E allora ti invito a recitarla. E invito anche chi magari sta a casa dagli schermi di unirsi. Preghiera per Casa Sollievo O Dio santo e glorioso, ricco di amore per i tuoi figli, al punto da donare il tuo figlio per donarci vita e salvezza. Ti ringraziamo perché lo Spirito Santo effuso sulla Chiesa da Gesù continua a suscitare fratelli e sorelle che sull'esempio di Cristo mettono la propria esistenza al servizio dei poveri, dei sofferenti e dei bisognosi. Per intercessione di Padre Pio, che portò sul suo corpo i segni dell'amore di Gesù, concedi alla sua opera la Casa Sollievo della sofferenza di essere fedeli al carisma del suo fondatore, di modo che ciascuno possa portare al letto del malato il tuo amore. Rendi Casa Sollievo Tempio della vita, guidando i cuori alla fedeltà e alla trasparenza nelle loro azioni. Ispira ai gruppi di preghiera e ai devoti di Padre Pio sentimenti di riconoscenza e amore, affinché ancora oggi siano il segno di quella providenza che volle quest'opera, per testimoniare a ciascuno una smisurata fiducia nell'amore e nella misericordia di Dio. Padre Franco Moscone. Bene, Son Maria Lucia, allora io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi. È stato davvero bello condividere queste riflessioni sull'opera di Padre Pio. Voglio anche ricordare ai nostri amici che alle 11.30 la celebrazione eucaristica sarà trasmessa proprio dalla cappella maggiore del terzo piano dell'ospedale, quindi vi invitiamo ad unirvi non solo alla preghiera che abbiamo recitato adesso, ma anche a quella che poi sarà offerta nel corso della celebrazione eucaristica delle 11.30, nel 67esimo anniversario della fondazione di quest'opera straordinaria. Grazie ancora, Son Maria Lucia. Grazie a voi, buona giornata. E ora ci fermiamo per la pubblicità. Grazie a tutti.